No no, quando li fai cadere si Si, te la dà il cuore? Ma che cazzo era questo cuore? Oh oh Oh, lo senti? No? Non lo so Si, cos'è? Cos'è? Ma che? Ma che cazzo è? A parte che questo lanciarazzi lo prenda Oh E' qua sotto E' un easter egg Lo vedi che è qua tipo Si Ma senti cos'è? E' un easter egg pauroso No ma cos'è? No vabbè Ma senti è tipo qualcosa che spara Si tipo ta 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 Vedi? Ma che cazzo Incredibile 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 Si E' stato lì si mi dico pa 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 Ma che cazzo Infatti io l'avevo sentito Subito ho pensato Boh saranno sai che ci sono Ehm Di zombie Boh saranno tipo gli zombie Ma che cazzo Ma che cazzo No ma dopo appena Appena moriamo andiamo a vedere nel replay Che cazzo ci sono Si 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 Invece 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 Lo Invece